I vigili del fuoco di Pavia sono stati al lavoro tutta la notte per domare l'incendio scoppiato all'alba di ieri nella ditta Ere di Bertè che si occupa di smaltimento di rifiuti speciali a Mortara, in provincia di Pavia. I vigili hanno avuto ragione delle fiamme nel corso della notte e sono stati impegnati durante la giornata di oggi a spegnere piccoli focolai in vista dell'operazione di smassamento dei rifiuti bruciati. Colonne di fumo alte decine di metri sono state visibili per tutta la giornata di ieri a chilometri di distanza. Durante l'estate sono stati parecchi gli incendi sviluppatisi in depositi di rifiuti anche nel milanese tanto che Lega Ambiente ha parlato di strana epidemia di incendi. A 24 ore dallo scoppio del rogo nella ditta di gestione rifiuti alla periferia di Mortara gli abitanti hanno iniziato a rendersi conto davvero questa mattina della gravità dell'accaduto. Se ieri la colonna di fumo nero era impressionante ma saliva in quota e poi la brezza provvedeva a portarla lontano oggi le condizioni meteo sono cambiate e Mortara si è svegliata immersa in una leggera nebbiolina con un forte odore di plastica bruciata. Nelle strade del centro, a due chilometri dal luogo dell'incendio, oggi c'era meno gente del solito effetto forse anche delle scuole chiuse e qualcuno ha preferito muoversi utilizzando in via precauzionale una mascherina sul volto. Il fumo che si sprigiona dall'incendio, pur diminuito, è parecchio. L'attività che rimane per completare l'intervento è quella di smassamento. I cumuli di rifiuti vengono cioè sollevati da benne e pale meccaniche, irrorati con acqua per spegnerli e poi spostati in un luogo sicuro, in un'altra parte del deposito. Le scuole rimarranno chiuse per altri due giorni, domani e dopo, per le conseguenze dell'incendio scoppiato ieri mattina. È ancora in corso. Con un'ordinanza firmata in giornata, infatti il sindaco Marco Facchinotti, a scopo precauzionale e considerato che non sono ad oggi pervenuti accertamenti ed analisi da parte di ARPA Lombardia, dispone la sospensione dell'attività educativa nelle scuole di ogni ordine e grado, compreso l'asilo nido comunale, per le giornate di venerdì e sabato. Un'analoga ordinanza è in arrivo dal sindaco di Vigevano, Andrea Sala. Anche a Vigevano, che dista una quindicina di chilometri dal luogo dell'incendio, è chiaramente avvertibile il forte odore di plastica bruciata, che da oggi, con il cambiamento delle condizioni meteo, grava sulla città di Mortara. Resterà da appurare attraverso le analisi il livello di tossicità dell'aria e la presenza di inquinanti. Per ora c'è molta preoccupazione tra i cittadini che temono ripercussioni sulla salute, oltre che sull'ambiente.